Non so, per un momento... Molto emocionante. Colina, eccezionale e esclusiva, Blogging Dance Floor, signore e signori, Michael Jackson! Viene! I'm so glad I am. Thank you. It's cool. It's cool, it's cool, it's cool, it's cool. Beh, tutta Milano e tutta Italia stanno aspettando Michael Jackson. È un disegno, è un disegno che sta a seragio che non si riuscite spesso sui nostri teleschermi. Io direi che parte domanda, vero, Luciano, poi so che c'è qualche cosa che vi riguarda. Allora, Luciano, cosa vi unisce? Cos'è il vostro stato? Luciano, c'è una cosa che unisce loro due. C'è una cosa che vuoi dire? C'è una cosa che ci siamo qui per? C'è una cosa che ci siamo qui per? C'è una cosa che ci siamo qui per? C'è una cosa che tu e Luciano saranno facendo insieme? Vuoi dire? Oh, ovviamente. È stato il nostro sogno per un lungo tempo di fare qualcosa per i bambini del mondo. È stato la mia passione e è stato il suo passione. I love you, Michael! Dice che è stato un desiderio di Luciano e di Michael di fare qualche cosa per gli altri, insieme, per i bambini del mondo. Ne abbiamo parlato sempre, adesso lui mi sorprende a dirlo così, mi fa molto piacere. Quindi canterete insieme. E questo sogno è diventato poi il progetto che loro hanno portato avanti per molto tempo di cantare insieme e mettere insieme anche un gruppo di star per fare qualche cosa con loro due e raccogliere fondi per tutti i bambini bisognosi. Lui verrà il 17 da te. Are you going to be together in Modena on the 17th of June? Do you want to do that announcement? Oh, yes. There is another announcement. E poi il 18, il 18 giugno sarà in San Siroccia. You're going to be here in Milan. You're going to sing here in Milan, right? Yes, concert. Here in San Siro, in Milan. Il 18 giugno sarà qui a Milano a San Siro per un concerto che vedrà, io credo, gente da tutte le parti d'Italia per applaudire Michael Jackson. è una cosa da dirci, Michael Jackson. The three tenors on the 17th of June in Modena and I wanted to join them. dice che sarà seduto in prima fila al concerto dei tre tenori il giorno 17 di giugno a Modena. è una cosa meravigliosa. Thank you very much, it's a great gift. to a very important category through the best show of the year and we're very proud of that. lui è qui anche per dare il premio interregatto alla migliore trasmissione dell'anno. Benissimo. E questa è una cosa che ci onora moltissimo e onorerà in maniera particolare la migliore trasmissione dell'anno che è la busta, la busta, la busta lo diciamo se non c'è bisogno. se non c'è nomination se non c'è nomination e animami. Ciao. Luciano Pavarotti Michael Jackson un momento indimenticabile. Grazie Luciano ci vediamo il 17 a Modena. Vai. Non so se a great power che momento guarda è incredibile. Finalmente finalmente siamo a casa. Siamo soli. Non so se basta per dire che ho conosciuto Michael Jackson ma insomma vabbè comunque mi fa piacere e voglio